Siamo in compagnia della dottoressa Cupella e le chiediamo, nasce oggi un protocollo, una sinergia fra il teatro Freschini di Pavia e quello di Stradella e il teatro sociale. Un percorso nuovo ma di vecchia data legata soprattutto all'amore per la storia e per il territorio. Sì, siamo soddisfattissimi veramente di questa firma che è avvenuta pochi minuti fa perché è un'ambizione che abbiamo da diversi anni. No, è un'ambizione, è una missione perché nel momento in cui la Fondazione Teatro Freschini è nata, grazie ai soci che sono il Comune e la Fondazione Banca del Monte, proprio nello statuto è stato detto che una delle missioni fondamentali era la missione culturale della Fondazione Teatro Freschini che doveva quindi portare cultura nel territorio non solo cittadino ma provinciale. Quindi più che mai l'unire le forze dei due gioielli come il Teatro Freschini di Pavia e il Teatro di Stradella può dare il segno di questa cosa. Due teatri lontani che però da sempre interloquiscono e che adesso diventano un tutt'uno. Un tutt'uno nella programmazione, un tutt'uno negli intenti, un tutt'uno negli obiettivi non solo di fare spettacolo ma di essere un servizio sociale e culturale per la città. Quindi anche per le fasce dei giovani, voi sapete che noi al Teatro Freschini abbiamo scuole in scena, sarà una cosa che sicuramente coinvolgerà anche il Teatro di Stradella e le scuole di Stradella che già peraltro negli anni passati dallo stesso teatro sono state coinvolte e così gli spettacoli per gli anziani e poi naturalmente una programmazione classica molto ampia, molto diffusa. È una soddisfazione, è una soddisfazione che segue la soddisfazione di aver acquistato anche il ramo d'azienda del cinema unico, cinema Politeama di Pavia che stava chiudendo, una soddisfazione che è una sperimentazione perché è una cosa nuova questo sistema culturale. Un sistema culturale che non credo che in Italia sia poi così tanto diffuso e quindi potremo forse essere veramente anche un po' l'esempio per tante altre realtà che in un momento in cui la crisi economico-sociale del nostro paese fa sì che le fonti di denaro siano sempre più risicate, il fare squadra, il fare rete sia la cosa fondamentale. Noi l'abbiamo già sperimentato facendo squadra e rete in regione Lombardia, facendo il circuito lirico che ci ha permesso di fare una stagione lirica che ci ha dato quindi la possibilità di diventare un teatro tradizione. Più che mai teatro capofila, come siamo, che adesso invece senza voler creare nessuna sudditanza, siamo in totale collaborazione e parità, incominciamo con il teatro di Stradella e con il cinema e poi, e poi avanti. Siamo in compagnia del professor Lombardi, Pavia e teatro di Stradella, teatro sociale di Stradella, insieme unite in un percorso di prericonoscimento della storia e del territorio. Certamente, certamente la soddisfazione è grande proprio anche per questa ragione, perché è un risultato questo che abbiamo ottenuto frutto di un lavoro e di un rapporto che da anni il nostro teatro ha con la Fondazione Fraschini, ma che siamo riusciti appunto attraverso questa convenzione, a questo accordo, a tradurre finalmente in pratica. Un accordo che valorizza la specificità anche del nostro piccolo teatro, riconosce anche i risultati, i meriti acquisiti in questi dieci anni e questo è un patrimonio che, credo senza presunzione, noi pensiamo di poter inserire e portare in questo sistema teatrale. Noi eravamo di fronte a tre scelte, sostanzialmente. Continuare sulla strada che abbiamo, credo con ottimi risultati conseguiti in questi anni, cioè quindi continuare con una gestione nella forma diretta attraverso convenzioni con associazioni che garantivano dei servizi. Potevamo legittimamente fare un appalto in grande stile e un affidamento esterno totale e invece abbiamo fatto questa scelta, che ci è sembrata la più logica, che ci è sembrata la più significativa per la provincia, per il nostro progetto culturale e soprattutto perché riesce un progetto di questo tipo a forse dare concretezza a quell'idea da tanto tempo sul tavolo di un sistema culturale, un sistema teatrale provinciale che poi concretamente non ha mai avuto il borghi.